Buonasera a tutti amici di Rubrica Rosso Nera, come abbiamo anticipato nella nostra sezione community, oggi 21 quarto parliamo e trattiamo di un possibile colpo di calcio in mercato che avrebbe dell'incredibile. Prima di iniziare col video vi chiediamo cortesemente per chi non l'avesse ancora fatto di iscriversi al nostro canale, di metterci mi piace, di seguirci perché ogni giorno ci sono importanti news di calcio in mercato, numerose news, curiosità sul magico mondo Milan. Parliamo di Isco, Francisco Romano Alcoron Suarez, noto comunemente, conosciuto come Isco, è un talento cristallino, un giocatore che non ha bisogno di particolari presentazioni visto le sue grandi qualità tecniche, visto il suo palmares e soprattutto visto la grandissima qualità che ha dato in questi ultimi anni al Real Madrid. Giocatore del 92, giocatore di 28 anni, giocatore di grande esperienza internazionale e punto fermo della nazionale spagnola. Secondo Don Balon, noto quotidiano, rivista online e quotidiano cartaceo in spagnolo, il giocatore sarebbe molto vicino al Milan. Il Milan vuole Isco e bisogna anche ricordarsi che il suo contratto scade al 30 giugno 2021. Un giocatore che attualmente ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e dopo aver vinto ed essere stato protagonista nell'epopea del Real Madrid, sta cercando nuovi stimoli, nuovi club in cui poter dare tanto. Perché un giocatore giovane, ha 28 anni, un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica. E secondo quanto abbiamo in qualche modo raccolto, questa indiscrezione, verificata in Italia, avrebbe trovato delle aperture. Perché questo? Perché il giocatore intanto è un grandissimo talento. Un giocatore di 28 anni potrebbe andare a inserirsi in quella cerchia di giocatori che hanno grande esperienza, grandi fami di vittorie, come Ivremovic, come Kier, porterebbe esperienza internazionale alla squadra. È un giocatore che altresì è giovane, rientra comunque nei dettami del Fondo IOT di non puntare, se non per eccezioni, su giocatori troppo in là con l'età. È un giocatore che ha un'occasione di calcio mercato perché il suo contratto è di scadenza e, seppur ha un ingaggio molto alto, però bisogna ricordarsi che in Italia c'è una agevolazione, possiamo dire, fiscale per i giocatori che arrivano dall'estero. E Milan andrebbe a risparmiare molti, molti soldi. In più il Milan potrebbe sostituire Cialanoglu, che ancora non ha rinnovato il contratto con il Milan, i contatti sono continui ma la distanza è ancora ampia, potrebbe essere proprio Isco l'alternativa a Cialanoglu. Il giocatore attualmente percepisce 12 milioni netti a stagione, ma sembrerebbe che sia affascinato dall'idea di giocare nel campionato di Serie A, sembrerebbe affascinato a giocare nel Milan e potrebbe magari di aridursi un pochino l'ingaggio. Ripetiamo, c'è questa agevolazione fiscale molto importante che toglierebbe, se decidessi magari di scendere a 10 milioni di euro, comunque permetterebbe al Milan di risparmiare notevolmente il suo costo di ingaggio, ma soprattutto comunque il Milan lo prenderebbe a prezzo di saldo e quindi potrebbe decidere di fare un sacrificio economico e valutare il giocatore in maniera importante, quindi offrendogli anche un contratto all'altezza del calciatore. Noi abbiamo verificato in Italia, il giocatore piace molto, è un pupillo di Maldini, Ivan Gazzidis non si opporrebbe insieme alla proprietà, però devono esserci gli incastri giusti, deve esserci la manovra di mercato giusta per portarlo in rosso-nero. Il Milan vorrebbe imprenderlo fin da subito nel mercato di gennaio, seppur c'è tantissima concorrenza su Isco perché essendo a parametro zero a prossimo giugno tante società hanno contattato il Real Madrid e contattato il ragazzo per cercare di strappare il sì del giocatore, ma ripetiamo, probabilmente il modulo che potrebbe esaltare le sue caratteristiche, questo 4-2-3-1 in cui ha fatto tanto bene a Real Madrid. Il Milan che sta tornando grande, il Milan che ha il suo fascino nei calciatori, il Milan che ha voglia di costruire un futuro molto importante, un Milan che sta gettando e ha gettato le basi molto importanti per tornare ai fasti di un tempo, per tornare sul tetto del mondo, ecco perché Isco è fortemente intenzionato a provare un'esperienza del genere. Quindi non escludo, come fondatore di rubrica rosso-nera, un possibile arrivo al Milan. Difficile, mi sento di dire personalmente difficile che arrivi a gennaio, più concretamente potrebbe arrivare a giugno, soprattutto se verso marzo-aprile il Milan dovesse essere ancora lì nelle zone nobili della classifica e quindi avere una disponibilità economica previsionale con la qualificazione in Champions League molto molto importante. Isco è un grandissimo giocatore, cosa potrebbe garantire al Milan? Intanto d'utilità, potrebbe giocare in tutti e tre ruoli dietro alla punta, giocatore con grande visione di gioco, giocatore con grande dribbling, giocatore che sa segnare, un giocatore che nel Real Madrid ha giocato 215 gare dal 2013, un giocatore che dal 2013 al 2020, 21, ha passato 7 anni e mezzo al Real Madrid, ha vinto tutto e in questa epopea ha giocato 215 partite, con giocatori con mostri sacri, dove ha saputo ritagliare sul ruolo assai fondamentale. Isco è davvero un top player e il Milan per tornare ai fasti un tempo, può e deve sfruttare questa opportunità di mercato, quindi noi di Rubrica Rosso Nera saremo ben favorevoli di accogliere un ragazzo, un campione così forte per il nostro magico mondo Milan. E come sempre se vi è piaciuto questo video vi chiediamo di mettere mi piace, di condividerlo e di iscrivervi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera. Ciao a tutti e buona serata.